Ciao amici siamo Mettebise Mettebise e siamo a Tahiti A Tahiti dall'altra parte del mondo ragazzi Cioè ieri eravamo a Torino oggi siamo a Tahiti in Oceania ma che succede? Disney ci ha dato l'opportunità di essere qua in Oceania perché uscirà il film Oceania al cinema ragazzi Quindi andiamo a vederlo tutti insieme Ma ragazzi vi do una super news per iscritti nel nostro canale Perché non fate tanti video ragazzi uscirà un vlog a settimana di noi a Tahiti Quindi rimanete sintonizzati e adesso vogliamo farvi vedere dove ci troviamo La nostra camera d'hotel, la spiaggia Quindi andiamo subito a fare un giro per questo bellissimo risotto Allora ragazzi questa è la spiaggia davanti all'hotel Adesso siamo qua al tramonto Ed è una cosa molto romantica ma noi mica ci veniamo con la fidanzata Adesso facciamo una cosa bellissima Che ho sempre sognato di fare Immagino No la facciamo un po' per tutti Adesso scriverò nella sabbia una cosa bellissima Cosa stai facendo? Ehhh Beh ragazzi ormai mette bise Ormai da quanto è che siamo insieme? Dai vai scrivi per favore non è necessario Ma ma perché devi fare queste cose? Ma tu queste cose qua molto molto... Non sai fare la e-commerciale? No falla tu la e-commerciale Facciamo vedere raga Screen Screen a manetta ragazzi Perfetto Se arrivate pure le onde a cancellare le nostre bellissime Vuol dire che non era destino Non è vero hanno cancellato Matt Quindi alla fine Matt se ne va e rimane solo bise L'oceano è il mio amico Il canale rimarrà a bise Facciamo vedere un po' del nostro bellissimo hotel E' talmente grande che non avremo tempo di farvelo vedere tutto Allora ragazzi questo è il nostro immenso hotel Pensate che la nostra camera ha 3401 Palazzo 3 Quarto piano stanza 1 Una cosa molto difficile Questo qua più che è un hotel è un resort Un villaggio Un'altra città Comunque ragazzi Grande Qua sono tutti molto... Comunque ragazzi ogni settimana ci saranno nuovi video Nuova esperienza Tahiti Ma adesso vi facciamo vedere la nostra stanza Andiamo in camera Andiamo in camera Allora qua ci siamo già persi più volte Diciamo ragazzi che questo è un video introduttivo Per spiegarvi un po' perché siamo qua Quindi mi raccomando Tutte le settimane guardate I video che usciranno Perché scopriremo L'oceania eh Dovete sapere che ogni volta che siamo in Ascensore Per aspettare facciamo sempre questo gioco Allora Non è vero questa cosa Non lo sapevo Ragazzi quando non si sa fare In un vlog Si fa questa cosa I veri I vlogger non li sappiamo fare Ma ci proviamo Bene ragazzi siamo arrivati al piano Se mi rivedete qui Ecco guardate Ragazzi troppo andremo a cena E magari faremo anche qualche vlog In cui faremo vedere come Guardate dove vi abbiamo portato Ma veramente loro non sono venuti No perché glielo stiamo facendo vedere Cioè raga Gli altri youtuber cosa vi fan vedere? Noi vi facciamo vedere Vieni mettiti qua 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 Ragazzi Siamo pronti Ragazzi fate come se fosse a casa vostra Gli altri Senza problemi Allora Qua abbiamo un bagno Ma 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 Guarda Questa è ancora il bellissimo queste qua ragazzi ce l'hanno regalate e hanno detto che sono due mascotte del film oceania si e le abbiamo soprannominate mette bise quindi ragazzi vi faremo vedere anche il bagno molto di soli e così ci andiamo nella casa vediamo il bagno scusate scusate il disone direbbe mia madre però abbiamo questo bagno comunicante con la camera da letto dal bagno alla camera da letto allora ragazzi questo è il bagno che veramente veramente grandi c'è un bagno in cui ci puoi anche mangiare addirittura un bagno come si dice una cucina abitabile noi abbiamo il bagno abitabile abbiamo anche le luci e le luci ce le abbiamo come come potete notare mette bise sono due persone completamente disordinate quindi non fate caso al casino quindi vengono signori dov'è la luce? dov'è la luce? eccola qua ragazzi no guardate che disordine signori e signori la nostra camera da letto perché noi noi ci prendiamo il letto matrimoniale noi che dici ci mettiamo in altre camere? no no perché noi siamo due youtuber che risparmi guardia no ma si ok siamo mica money grabber come voglia ok ma abbiamo il pezzo forte ragazzi il pezzo il pezzo il pezzo più forte io mi metto una delle questa qua ce l'hanno data ragazzi appena siamo arrivati ci hanno accolto con queste bellissime collane allora ragazzi abbiamo il pezzo forte venite è una cosa bellissima venite vieni 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 signori youtube che ci sta inquadrando vieni cosa sta succedendo cosa sta succedendo? 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 oh che cos'è? abbiamo la vista mare? abbiamo la vista mare? ciao ciao oceania mette a mise mette a mise ragazzi possiamo guardare la bellissima fitta vegetazione che c'è qui che c'entrano guardate ragazzi che bellissimo posto ragazzi in oceania siamo arrivati da poco ragazzi ma sono sicuro penso che ce la ricorderemo per sempre sì sarà una cosa che dobbiamo per forza ricordareci per sempre quando ci ricapita di venire di nuovo in oceania chiediamo davvero che voi vediate tutti questi video che usciranno una volta a settimana in vista dell'uscita al cinema del film oceania il 22 dicembre ma adesso signori ci hanno portato anche la cena anche la cena faccio la cena con terrazzi il problema è che ci hanno dato solo una cena e infatti è quello che ti volevo dire beh ordina, chiama, non so ho capito fai money grabber ma tu fai money grabber che ti fai portare la cena la cena in hotte così qui sono le 8 di sera io ceno in Italia sono le 8 del mattino 12 ore di fuso orario quindi io vi dico buona colazione a me buona cena io vi dico ci rivediamo al prossimo video la prossima settimana sì ragazzi cioè a me lo posso? direi che possiamo chiudere il video così va bene ragazzi prossima settimana appuntamento mette le vise mette le vise di nuovo al prossimo video ciao Grazie a tutti.